Bella a tutti ragazzi, noi siamo i The Gamer e siamo su un nuovo video di nostro canale raga Oggi siamo su un nuovo vlog, il vlog della domenica Allora, noi raga siamo a camminare su... Madonna di Campini No, Madonna Nera per ora Madonna Nera Che non è una bestemmia Raga, che è sopra a Rio Maggiore per chi conosce la Liguria Si, però ci stanno seminando E un attimo che ci stanno seminando Aiuto, porco cane Eccoli là, ok Allora, sono in compagnia Vabbè, siamo noi due i The Gamer E i The Five e l'Humberjack E un mio amico Saluto Ciao Ok raga Noi ci vediamo quando sarà visibile il paesaggio di Madonna Nera A dopo raga Ecco ragazzi, siamo sempre sopra la Madonna Nera Guardate, il mare è limpidissimo qua in questo punto della Liguria Guardate, qua siamo in un dirupo raga Cioè praticamente, se uno cade di qua raga muore Cioè, proprio se deve essere... Non so proprio se coglione cade, però Di sicuro se cade dall'altro... La raga ci sono dei... Ci sono dei... Ci vediamo al ristorante Ci sono dei campi agricoli Ciao raga, a dopo Ok raga, ci vediamo dopo Eccoci raga, guardate che paesaggio Questo è il tratto tra Madonna Nera e... Madonna d'Argento No Madonna di Campiglia Poi noi raga faremo tutto col tratto che vedete là Sino ad arrivare a Madonna di Campiglia Che è quella laggiù Che sembra un miraggio, ma ci arriveremo Ok raga, ci vediamo dopo Ok raga Siamo in un altro posto del tragitto Non si vede tanto, però comunque se si vede... Siamo praticamente a metà... A quasi fine del tragitto È vero, lì sotto c'è una casetta Siamo quasi a fine del tragitto qua E là dove noi poi dopo andremo là, credo E poi andremo a Madonna di Campiglia Che è laggiù e a Rio Maggiore Quindi raga, noi ci vediamo dopo Bella Ok raga, siamo arrivati a una chiesetta E c'ho una fame della Madonna Appunto, intanto là c'è una signora nuda Che signora? Ma cosa signora nuda? Stiamo andando in panina Ok Raga, questa chiesa l'avevate vista prima? Non fosse una chiesa Perché non sembra proprio Sì, un po' una chiesa però sembra Guardate il paesaggio Il paesaggio è spettacolare raga Guardate Adesso ti cade il telefono No, se mi cade il telefono Sentite le peggio madonne che volano dall'alto Ok Il paesaggio qua è veramente Come ha detto Andrea Spettacolare Eccoci raga, guardate che panorama Di nuovo Questa credo sia la parte Con più panorama che abbiamo visto Che figo raga Eccoci raga Siamo al ristorante Ora siamo nel parchetto Siamo sotto Altalene Questo è il ristorante Tra un po' andremo a mangiare E quindi Niente Ragazzi guardate AD5 Appunto Muovila Quindi ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Condividete Commentate 10 like Vi porteremo un altro vlog Quindi Dai The Gamer È tutto Bella raga Ciao 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 Ciao